Salve a tutti! Oggi vi porto una nuova selezione che potrebbe risolvere molti dei vostri problemi quotidiani. Non voglio dirvi troppo, ma state certi che ne vale la pena. Tutti i dettagli subito dopo la sigla. Vuoi ricevere le migliori offerte ogni giorno? Uniscite al nostro canale Telegram e approfitta dei super sconti esclusivi! Numero 3. La bicicletta Royal Baby Freestyle BMX con rotelle rimovibili è una scelta eccellente per i piccoli ciclisti in erba. Il suo caratteristico stile BMX e la vasta gamma di accessori la rendono un'opzione versatile e accattivante. Disponibile in varie dimensioni, da 12 a 20 pollici, si adatta perfettamente a ogni bambino. Con un telaio in acciaio resistente e freni calai per affidabili, questa bicicletta promette sicurezza e divertimento. Il campanello e il portaborraccia inclusi aggiungono un tocco pratico per un'esperienza completa. In descrizione trovi il link di questo prodotto. Numero 2. La mountain bike Atala Invader 24 è la scelta perfetta per giovani ciclisti avventurosi di età superiore ai 9 anni. Il suo tubo superiore basso facilita la salita e la discesa, rendendola versatile per terreni diversi. Sebbene non sia leggera, offre un cambio a 6 velocità e freni V-brake affidabili. Ideale per chi ha già esperienza, ma non consigliata per principianti. La sua struttura robusta le vale un voto alto, ma mancano accessori inclusi. Se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto, clicca il link in descrizione. Numero 1. La bicicletta alpina per bambini si distingue per una solida struttura in acciaio e include rotelle di supporto, perfetta per i piccoli ciclisti tra i 4 e i 6 anni. Con un peso di 10 kg, offre una guida stabile seppur priva di sospensioni. Le ruote da 16 pollici assicurano un'ottima scorrevolezza, mentre il sistema di frenata V-brake e il cestino anteriore con portapacchi aggiungono funzionalità. Questa bici riceve note positive per struttura e accessori, rendendola una scelta affidabile per i genitori. Trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione. Grazie per la visione!